Benvenuto in News Mix Up, ricordati di iscriverti attivando la campanellina, lascia un bel like e commenta. Il tuo supporto è fondamentale per il nostro canale. Grazie. Laura Pausini, la sovrana della melodia, non cessa di attirare l'attenzione su di sé. La sua incredibile carriera e il talento innato l'hanno portata a conquistare cuori non solo in Italia, ma in ogni angolo del pianeta. Ora, con il recente matrimonio con l'amore della sua vita, Paolo Carta, il fidato chitarrista, sembra che la sua vita privata sia ancora più dolce che mai. In un'intervista mozzafiato, Laura ha rivelato preferenze piccanti che hanno lasciato tutti senza parole. Sembra che la Pausini prediliga uomini affascinanti, pelosi e in carne. Ma tornando alla sua carriera, Laura ha dimostrato ancora una volta perché è una delle artiste più amate al mondo. Il suo tour mondiale sta riscuotendo un successo incredibile, con spettacoli che lasciano il pubblico a bocca aperta. Abiti straordinari, una scaletta ben studiata e performance emozionanti, tutto sembra essere al posto giusto per far sognare i suoi fan. In definitiva, Laura Pausini è un'icona intramontabile sia sul palco che nella vita di tutti i giorni. Il suo talento e la sua autenticità la rendono unica, e il pubblico non smette di amarla. Continueremo a seguire con attenzione i suoi successi, sia professionali che personali, perché quando si tratta di Laura, l'entusiasmo non ha mai fine. E tu, cosa ne pensi? Ricorda di iscriverti al canale attivando la campanellina, lascia un bel like, condividi e commenta. Grazie per la visione e al prossimo video. Ehi, non mancare! Ciao!